Ciao, sono Dunno e questo è, al microscopio with Dunno. Basta stare davanti a degli schermi. Oggi faremo un viaggio nella natura. Immaginatevi essere un essere minuscolo, e poter camminare su queste foglie come se fossero dei deserti sconfinati. Figata. Questa foglia sembra quasi fatta di cuoio. Questo è petaloso. Il osmarino invece sembra un cetriolino. Che dite mi trasformo in piccol Dunno? Anche la salvia è ingannevole. Potrebbe sembrare un cactus. Invece no. Questo è un cactus. Missing someone, is as normal. 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 Questo cos'è? Si mangia? Siete curiosi di vedere qualcos'altro al microscopio? Fatemi sapere. E come sempre likeate, commentate e iscrivetevi al canale. Ciao!